benvenuti amici del vaso di pandora due situazioni potenzialmente molto pericolose stanno avvenendo in in queste ore in questi ultimissimi giorni ma i media media mainstream direi colpevolmente non se ne stanno occupando io nei giornali non vedo nulla neanche nell'edizione online dei quotidiani e quindi a noi il compito di informarvi di darvi una panoramica mi sto riferendo in particolare alla visita che ormai sembra certa in queste ore di nancy pelosi la speaker della camera americana a taiwan e poi una situazione esplosiva anche in kosovo una grande tensione tra serbia e kosovo affrontiamo gli argomenti con i miei illustri ospiti ormai abituali del lunedì giacomo gabellini benvenuto ben ritrovato ciao carlo buonasera a tutti e benvenuto ben ritrovato stefano orsi ciao stefano buongiorno a tutti allora giacomo veniamo subito al punto nancy pelosi appunto dicevo la speaker della camera americana sembra non voler rinunciare alla visita a taiwan in queste ore qui le notizie dicono che dovrebbe addirittura arrivare nemmeno giovedì 4 ma domani martedì a taiwan la cina nel frattempo ha effettuato un'esercitazione missilistica proprio sullo stretto che divide la cina dall'isola da taiwan e senti facciamo il punto ecco perché la visita di nancy pelosi è potenzialmente esplosiva perché qui si va ben oltre la cosiddetta ambiguità strategica che è un termine che è un'espressione che fa riferimento al rapporto che hanno instaurato gli stati uniti con a tre diciamo stati uniti cina repubblica popolare cinese e taiwan fino al 72 il riconoscimento degli stati uniti andava alla repubblica alla repubblica di cina cioè taiwan e quindi con il disconoscimento della repubblica popolare cinese con l'apertura di nixon e kissinger poi formalizzata dall'amministrazione carter nel 78 c'è stato uno switch un cambiamento praticamente il riconoscimento è caduto su pechino e quindi l'implicazione necessaria è stata il disconoscimento di taiwan come governo legittimo della cina il che però non ha portato esattamente a una troncatura dei rapporti perché esattamente perché anzi successo esatto contrario si è assistito a una intensificazione delle dell'acqua dei rapporti di collaborazione militare tra taiwan e stati uniti con la fornitura di per esempio di 150 f16 nel 1992 a cui hanno fatto seguito una serie di importante comunque di regola di forniture regolari di armamenti anche letali di cui che Washington è garantito con una certa regolarità all'isola e quindi se da un lato riconosce la repubblica popolare cinese come governo legittimo della cina unificata una sola cina e d'altra parte invece con l'altra mano presidia taiwan e specialmente negli ultimi tempi a partire dall'amministrazione trump e poi con crescente intensità sotto l'amministrazione biden si è assistito proprio a un aumento dell'aggressività statunitense l'intensificazione delle manovre militari nello stretto di taiwan con l'invio di portaeree addirittura statunitensi come la Reagan nelle acque prospicenti ricoste taiwanesi che chiaramente dalla repubblica popolare cinese non possono che essere considerate come delle provocazioni e come una messa in discussione dell'unità nazionale e quindi chiaramente spongono proprio prestano il fianco delle ritorsioni cinesi che potrebbero anche raggiungere diciamo un impatto molto dirompente perché qui si parla chiaramente che di intercettare l'aereo su cui viaggia Nancy Pelosi e scortarlo costringerlo ad atterrare quindi una situazione veramente gravissima clamorosa direi a quel punto i caccia cinesi volerebbero sullo spazio aereo di taiwan a quel punto e quindi anche lì si verrebbe a creare un precedente di non poco conto perché lì a quel punto anche le difese taiwanesi cosa farebbero? Aprerebbero il fuoco sui caccia cinesi poi allo stesso tempo l'aereo su cui viaggia Nancy Pelosi sarebbe scortato da alcuni caccia del pentagono chiaramente decollati da alcune delle unità navali che sono presenti nella zona e quindi cosa cosa succederebbe? Uno scontro a fuoco tra l'arenautica militare cinese e quella statunitense? Mi pare che ci sia come al solito un tentativo degli Stati Uniti di gettare benzina sul fuoco e quindi abbiamo il quadro diciamo una replica di quello con forse addirittura una faccia tosta addirittura superiore rispetto a quello che sono state tutte le provocazioni che gli Stati Uniti hanno rivolto nel corso degli ultimi anni nei confronti della Russia. Nei confronti della Cina si assiste una diciamo un trattamento simmetrico che potrebbe avere degli esiti ancora più devastanti rispetto a quelli che ha prodotto questo atteggiamento tenuto nei confronti della Russia. Da aggiungere che la Cina ha fatto sapere che non rimarrà diciamo con le mani in mano che eventualmente reagirà la qualcosa è molto preoccupante perché i cinesi sappiamo non parlano mai a caso anzi parlano molto poco e quando parlano fanno seguire i fatti quindi questo aggiunge motivi sicuramente di preoccupazione. Nancy Pelosi all'atto della partenza in America per l'area della Pacifico ha detto che un Indo-Pacifico libero e prospero gioverà non solo agli Stati Uniti ma anche al mondo intero e lo scopo del viaggio ha detto è riaffermare l'impegno irremovibile degli Stati Uniti nei confronti di alleati e amici nell'Indo-Pacifico. Quindi parole direi come diceva anche Giacomo a conferma provocatorie. A te la parola Stefano. Stefano Orsi. Ma è tutta una serie di provocazioni che gli Stati Uniti continuano a mettere in piedi. Non solo loro direttamente ma usano anche gli schiavetti del caso tipo ad esempio la Lettonia che aveva riconosciuto una rappresentanza diplomatica di Taiwan o la Meloni recentemente che ha incontrato un diplomatico di Taiwan. Insomma tutti quei sotterfugi che usano gli Stati Uniti per creare un clima di nervosismo estremo ed esacerbare delle situazioni. Quando vogliono causare una provocazione eclatante lo schema che usano è sempre questo. La Ronald Reagan con il suo gruppo di battaglia è schierato a sud-est delle coste di Taiwan seguito da alcuni cacciatorpedinieri di classe tipo 52 e 54 cinesi. Non sappiamo ma sicuramente ci sono dei sottomarini d'attacco statunitensi in zone probabilmente anche cinesi che però non non si vedono chiaramente. Per quanto riguarda il viaggio della Pelosi direi che fa seguito a una telefonata lunga perché è durata quasi tre ore tra il presidente Xi Jinping e Biden tra un test positivo e l'altro che ha avuto modo di liberarsi e di partecipare a questo incontro telefonico. Il problema è che è andato malissimo. Le parole e cioè non hanno raggiunto alcun tipo di diciamo non hanno spento le tensioni che ci sono anzi possiamo dire che dalle parole del presidente Xi Jinping che sono trapelate cioè l'uso di un proverbio che chi scherza col fuoco finisce con lo scottarsi indica che riferito agli Stati Uniti che a furia di tirare la corda finiranno per romperla per usare un altro proverbio perché stanno continuamente usando delle provocazioni con chi non è abituato a farne. Ecco la Cina non non è abituata a compiere questi giochetti non li accetta e vede il tutto come una violazione palese della sua sovranità. Questo perché riconoscendo un'unica Cina un personaggio politico non può recarsi a Taiwan senza chiedere l'autorizzazione alla Cina chiaramente e la Cina di conseguenza dice che il viaggio della Pelosi non è solo una provocazione ma è un'aperta violazione di questa sovranità perché di fatto sarebbe un riconoscimento di un'autorità di una regione, di una provincia cinese che quindi causa una rottura dei rapporti diplomatici con la Cina. Io sinceramente sono molto preoccupato per questa situazione perché si passa da una politica che era una politica di principio, di legalità, una politica delle linee rosse da violare e cioè si portano agli estremi le conseguenze di una visione politica propria cercando di imporla a tutti i costi, a qualunque costo al proprio interlocutore. Quindi di fatto non riconoscendone né autorità né parità di dialogo a livello di dialogo come interlocutore, l'Occidente si pone sempre al di sopra degli altri auto incensandosi con una diciamo autorevolezza che non ha poi riscontri nel mondo pratico, una superiorità morale che non esiste nei fatti, che non esiste. La Pelosi stessa dice riaffermare un indopacifico libero. Libero da cosa? Nel momento in cui le isole Salomone avevano firmato un accordo con la Cina liberamente, quindi sulla base della loro sovranità, gli Stati Uniti hanno minacciato pesantissime ritorsioni. Quindi dov'è questa libertà? La libertà di cui parlano è semplicemente la sottomissione al volere statunitense. Di fatto l'Indo-Pacifico è visto come un cortile di casa dagli Stati Uniti e non accettano che ci siano concorrenti su questo settore del mondo, che di fatto gli permette di dominare dall'Africa fino alle coste americane, per capirci. L'Atlantico è un altro discorso, ma è unito dalla Gran Bretagna che fa parte anche dell'AUKUS che si occupa appunto del Pacifico. Ritorneremo in questi giorni ovviamente sul tema, la vicenda, una vicenda potenzialmente appunto abbiamo visto molto pericolosa. I media poi, noi faremo sicuramente il nostro compito. Poi i media, TV e giornali faranno quello che ritengono opportuno loro. Un'altra situazione esplosiva, potenzialmente molto pericolosa, qui hanno già cominciato a effettuarsi dei movimenti, sta avvenendo Giacomo in Kosovo. C'è una grande tensione con la Serbia. Allora, qui serve fare, è opportuna proprio una tua disamina, proprio parlare degli antefatti per capire bene cosa sta avvenendo. prego. Il fatto di per sé pare quasi pretestuoso, direi, perché in fin dei conti si tratta di un problema di immatricolazioni di auto. Il fatto, come l'hanno presentato i giornali, sembra una cosa puramente amministrativa che quindi sarebbe risolvibile e quindi questo escalation sarebbe dovuto alla mancanza di responsabilità di qualcuno, laddove invece il problema affonda le radici molto più indietro e riaffonda sostanzialmente le radici nel processo disgregativo della Jugoslavia che è stato innescato verso la fine degli anni Ottanta, anni Ottantanove precisamente, e che diciamo si è realizzato attraverso varie fasi. Quella del Kosovo è stata l'ultima, la penultima, perché poi dopo chiaramente c'è stata anche la separazione del Montenegro. Però quella del Kosovo è stata un evento particolarmente traumatico, perché come al solito la Jugoslavia era un paese profondamente multietnico in cui le popolazioni erano distribuite a macchia di leopardo, quindi c'erano delle minoranze per esempio serbe in alcune regioni croate, alcune minoranze croate in alcune regioni serbe, alcune minoranze musulmane in Bosnia e Herzegovina per esempio, e che quindi la convivenza chiaramente richiedeva un certo tipo di capacità di governo da parte del governo centrale e come si sa, nel momento in cui le condizioni economiche peggiorano e si prendono vita, qui sono state peggiorate anche a causa dell'atteggiamento profondamente, dal mio punto di vista, provocatore tenuto in primo luogo dalla Germania e dal Vaticano, che hanno riconosciuto immediatamente la secessione della Croazia nel 1991, e poi del Fondo Monetario Internazionale, che come al solito soffiò sul fuoco, fomentando proprio le tensioni secessioniste, vincolando l'erogazione di crediti e ad azione di alcune politiche. Per il Kosovo si è assistito più o meno alla stessa vicenda, con una regione che è scollocata nella propagine meridionale del vecchio Stato jugoslavo, che è popolata da una snutrita componente albanese, che puntava ad ottenere una maggiore autonomia, e questo nell'ambito comunque della preservazione dello Stato jugoslavo, dal quale da questo movimento autonomista si distaccò una branca molto radicale dell'UCK, che erano essenzialmente, io chiamerei quasi un gruppo mafioso, perché effettivamente sono dei personaggi che erano inseriti nella lista dell'organizzazione terroristica degli stessi Stati Uniti, che sono coinvolti nel narcotraffico dell'eroina dall'Afghanistan verso l'Europa, sono degli snodi fondamentali, su cui gli Stati Uniti hanno fatto leva proprio per portare, per esasperare la situazione e giustificare l'attacco del 1999 contro la Federazione Jugoslava. L'attacco fu portato, c'è un bombardamento di Belgrado per 72 giorni, pian piano i bombardamenti furono stesi a gran parte del paese, perché l'Eugoslavia fu soltanto bombardata dall'alto, ma non un soldato della Nato mise piede in Jugoslavia. È molto interessante questo, e infatti Jugoslavia Milosevic all'epoca non intendeva cedere, non intendeva piegarsi al diktat della Nato, e l'accordo fu raggiunto soltanto tramite dell'intercessione russa. I russi ci riuscivano a far approvare il piano di pace di Kumanovo al Parlamento serbo, jugoslavo, dirò, e in cambio del congelamento provvisorio della situazione, cioè lo status del Kosovo sarebbe stato definito nell'arco del decennio successivo. Nel frattempo un contingente internazionale sarebbe stato schierato a garanzia delle tutele delle minoranze. L'accordo implicò la trasformazione dell'UCK, quello movimento secessionista di cui ti parlavo prima, in una sorta di forza di polizia che, col consenso delle forze Nato presenti a garanzia proprio delle minoranze, procedette alla pulizia etnica del Kosovo, del gran parte delle minoranze serbe, che da allora sono state vessate sistematicamente dall'autorità di Pristina. Nel 2010 il Kosovo proclama unilateralmente e in violazione degli accordi di Kumanovo del 99 la propria indipendenza, senza un referendum, senza niente, e viene riconosciuto istantaneamente da gran parte dei paesi, tranne naturalmente dalla Federazione Russa e da altri paesi, per cui ovviamente la Serbia, che tuttora percepisce il Kosovo come una regione ribelle al pari di Taiwan per quanto riguarda la Cina, al proprio interno. E quindi qui si è creato un precedente storico molto scivoloso, a cui Putin per esempio si è appellato chiaramente nel momento in cui, sulla base del referendum, ha riconosciuto l'annessione della Crimea nella Federazione Russa. Ha detto come voi avete riconosciuto una proclamazione unilaterale di indipendenza che non era stata proceduta da alcun referendum e io non posso procedere all'adesione, al processo di adesione della Crimea nella Federazione Russa, nonostante ci sia stato un referendum a cui hanno votato oltre il 90% dei votanti si è presso a favore e quindi diciamo che i precedenti storici sono questi. Il processo che si è innescato in tutti questi anni, le violenze a danno dei serbi, sono state compiute nella più totale oscuramento mediatico e nella più totale collaborazionismo delle forze presenti in loco. Senti, Giacomo, mi sembra quasi la fotocopia di quello che sta avvenendo in Ucraina. In tuo parere Stefano, intanto da notare proprio la sintesi perfetta, la cronistoria perfetta di Giacomo direi, che ha inquadrato e aiuta a inquadrare benissimo e quindi a arrivare nel momento attuale. Giacomo ha fatto bene a sottolineare il fatto che sia stato preso una formazione LUC-K che era inserita addirittura nelle formazioni terroriste estremiste. Questo schema l'abbiamo già visto in Afghanistan, quando la CIA ruolò di fatto delle bande di delinquenti trasformandoli nei famosi Mujahideen, tagliagole che divennero la spina nel fianco del democratico governo afgano che poi dovete chiamare e richiamare l'intervento russo per aiutarla a porre fine ai combattimenti che i Mujahideen portavano avanti nel paese. Quello che succede adesso in Serbia non è nient'altro che la prosecuzione della destabilizzazione che negli anni 90 hanno portato avanti gli Stati Uniti con il beneplacito di alcuni stati europei all'interno di quella che fu la Jugoslavia. Una guerra che alla faccia dei 70 anni di pace pesa ancora sulle nostre coscienze, perché anche l'Italia vi partecipò soprattutto nei bombardamenti legati alla guerra nel Kosovo, che tra l'altro fu uno dei primi esempi… Scusami Stefano, vogliamo ricordare che nel governo che approvò la missione c'era anche Mattarella, no? Sì, sì certo, era ministro della difesa. Bene ricordare, no? Bene ricordare. Certo, certo. Tra l'altro per un po' di tempo fu nascosto questo fatto fino a che a un certo punto un generale disse i nostri aerei decollano con le bombe e tornano scarichi, quindi di sicuro non le gettano nel mare, ecco, spiego molto brevemente, perché fino a quel momento si faceva finta che non succedesse nulla di fatto, mentre invece non era così. Tra l'altro il bombardamento ebbe uno schema preciso di escalation, cioè si passò dagli obiettivi militari a obiettivi di interesse militare a obiettivi prettamente civili, come ospedali, addirittura venne colpita e distrutta l'ambasciata cinese a Belgrado, insomma una serie di eventi distrutti dei treni con passeggeri civili. Tra l'altro famosa la scena di un bombardamento passato sulla Rai in cui si vedeva, ecco guardate che viene colpito il ponte, solo che si vedeva arrivare il treno e quindi il treno era sopra il ponte quando è stato colpito. Sappiamo bene che fine hanno fatto tutti i civili che erano sul treno. Tutto questo tra l'altro a fronte di una pulizia etnica che veniva denunciata da parte dei serbi contro i kossovari che però non mi risulta venne mai provata dalla ricerca delle fosse comuni, in quanto si scoprì poi in seguito che alcuni che erano stati ritrovati erano nient'altro che combattenti, vittime quindi dei combattimenti, che erano stati seppelliti non in fosse comuni ma sul terreno dove c'era stata la battaglia e poi erano stati esumati, vestiti con abiti civili e i cui fori però non corrispondevano con quelli delle vittime, quindi c'è stata tutta una serie di camuffamenti, delle prove per giustificare un intervento militare che però non aveva neanche la base minima per trovare una giustificazione. In questa ingerenza tra l'altro della Nato, alleanza difensiva che ha aggredito di fatto un altro paese. Adesso non vediamo nient'altro che la prosecuzione di queste provocazioni gravi da parte del Kosovo, che di fatto vuole imporre ai cittadini serbi che non riconoscono l'autoproclamazione dello Stato di avere documenti kossovari, targhe kossovari, assicurazioni kossovari e via dicendo e vuole imporlo con la forza. È già un po' di tempo che va avanti questa cosa e ora siamo arrivati, temo al dunque. Certo. Giacomo, secondo te è una situazione che rischia di cronicizzarsi, diciamo in qualche modo come l'Ucraina? Il problema è che ficcare la testa sotto la sabbia come l'Unione Europea fa da sempre, mi viene da dire, non comporta il dissolvimento dei problemi, non comporta il fatto che i problemi si ignorano finché non continuano a crescere le dimensioni, a approfondirsi di gravità e finché non raggiungono il punto critico. E poi una volta raggiunto il punto critico è che tutti fanno oibo, è come se nessuno si potesse aspettare questa situazione. Questa situazione va avanti dal 1999, come minimo. In realtà era antecedente, c'è uno storico croato che probabilmente il maggiore, Josep Pirjevic si chiama, uno dei maggiori studiosi delle guerre valcaniche, ha parlato che l'intervento della Nato in Kosovo ha provocato più morti tra i kosovari di quanto non se ne siano registrati nel decennio successivo alla concessione dell'autonomia del Kosovo, quindi tra 89 e 99, negli scontri a fuoco tra i kosovari e i serbi. Quindi l'intervento ha avuto più vittime tra la popolazione che fra virgolette si intendeva proteggere, rispetto a quanto ne abbiano prodotti gli scontri con le popolazioni che si voleva proteggere e i loro nemici, cioè i serbi. È qualcosa di incredibile, un attacco condotto in assenza di mandato delle Nazioni Unite, va ricordato anche questo, perché non se ne è anche chiesto il partanto, i russi avrebbero votato contro, quindi noi attacchiamo ugualmente. Questo è il solito rispetto del diritto internazionale, i valori di cui facevamo menzione prima. La superiorità morale. Chiaramente quindi si sedimentano odi, rancori che si cronicizzano e quindi portano la situazione a incancrenirsi e a rendere irrisorbibile. Ormai lì o si mantiene una guarnigione permanente e si garantisce seriamente che i diritti delle minoranze vengano tutelati, invece se le minoranze sono quelle serbe o sono quelle russe del Donbass, ognuno è libero di fare quello che vuole, mentre invece se sono gli albanesi possono anche costruire un falso uccidio come quello di cui parlava prima Stefano, l'ucidio di Raciak, che è stato quello a cui si è fatto appello per giustificare l'intervento del 99 e quindi diciamo che abbiamo queste due situazioni, quella Taiwan-Cina, quella Serbia-Kosovo danno la misura, il livello infimo in cui l'Occidente sta sprofondando, in termini di vigliaccheria, di irresponsabilità e di come gli Stati Uniti stiano assumendo un atteggiamento eversivo, perché pensare che i Kosovari agiscano da soli, laddove in Kosovo c'è la più grande base militare degli Stati Uniti in Europa, il carbon steel, costruita subito dopo la guerra, mi pare irrealistico, quindi un paese che comincia ad adottare un atteggiamento eversivo per cercare di frenare o mantenersi in sella come potenza dominante, cercare di invertire quello che è un processo storico, a mio parere, inesorabile. E' la strategia del caos ormai quella che hanno adottato? Decisamente. Io credo che ci possa essere anche un'altra chiave di lettura, cioè che la Nato abbia bisogno di colpire un paese per far vedere nuovamente la sua potenza militare e in questo caso stia provando a farlo con la Serbia, provocandone la reazione, per arrivare poi alla prima occasione a una serie di nuovi bombardamenti violentissimi contro questo paese per colpire indirettamente la Russia. Noi sappiamo tra l'altro che la Serbia ha ricevuto recentemente forniture militari dalla Russia prima del blocco dei voli e poi dalla Cina mediante l'arrivo di sistemi di difesa aerea medio e lungo raggio di produzione cinese, mentre dalla Russia aveva ricevuto anche sistemi Panzir e dei caccia aggiornati. Il problema è che a mio giudizio ci sia questo tentativo da parte della Nato di arrivare a un piccolo conflitto contro un paese alleato della Russia per dimostrare quella potenza militare che non riescono a dimostrare in Ucraina, perché di fatto l'Ucraina sta uscendo un po' dai radar dei nostri media che passa in terza e quarta notizia, anche per via del fatto che è accaduto a Jelenovka, cioè un crimine commesso dagli ucraini che hanno ucciso i prigionieri di guerra ucraini in mano russa. Di fatto è quello il motivo per cui se ne parla sempre meno. Quando ci sono notizie scomode le si ignora del tutto. Certo, adesso i media sono impegnati nella campagna elettorale, si stanno concentrando su quella, quindi notizie più importanti, tipo Calenda se si allea con Letta, mi dimentico i nomi perché mi sembrano un po' cose di retroguardia, oppure la Gelmini che si è alleata appunto con Calenda. E' importante non dimenticare la Carfagna. Ecco esatto, eccolo lì, perché non mi vengono i nomi, no? Non mi vengono i nomi perché... e quindi stavo pensando, dico c'è una parlamentare campana che però adesso non mi ricordo, la Carfagna. Esatto, grazie Stefano. E dunque, l'altro tema che merita l'attenzione e l'approfondimento, la scorsa settimana il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha compiuto un viaggio direi piuttosto articolato in Africa. E' stato ricevuto dal ministro degli esteri dell'Egitto e il leader di Etiopia, Uganda e Repubblica del Congo. Giacomo, qual è il senso e la strategia di questa visita che è durata quasi una settimana di Lavrov in Africa? E' un'anzitutto una manifestazione dell'isolamento russo, si parla tanto della Russia isolata, la Russia è accolta da tutti i paesi del mondo. Ecco, parlavi per... esatto, per contrari ovviamente. E poi, a mio parere, è interessante perché, a mio parere, era un tentativo che la Russia stava, in cui la Russia era impegnata da diverso tempo, quello di crearsi, di ergersi come polo, di attrazione, per i paesi che sono in grado di attenere un ruolo chiave nella fornitura di alcune materie prime strategiche. Per cui la Repubblica Popolare del Congo, per quanto è uno stato disastrato sotto molti aspetti, comunque è uno stato ricchissimo di materie prime che sono molto rare, come il Coltan, la Cassiterite, a di tutto e di più. Veramente è un paese attraversato dalla grande faglia africana, uno dei depositi minerali più interessanti. Chiaramente, quindi, riuscendo, poi ci sono i paesi del Sarell che hanno dei fosfati, diciamo che quindi si sta posizionando in una... si sta collocando in una posizione molto strategica che la porta, come dicevo, ad ergersi a perno, fulcro attorno a cui cominciano a ruotare tutti i paesi che detengono le, diciamo, ruoli chiave nella fornitura di materie prime di cui l'Occidente ha bisogno, in primis l'Europa, chiaramente che queste materie prime non le ha. Quindi qui si tratta di creare una sorta di cartello dei fornitori, dei produttori, che diciamo potrebbe ribaltare gli equilibri per come li abbiamo conosciuti finora. qualcosa del genere si verificò nel 1963 con gli shock petroliferi, quando l'OPEC fece valere la propria centralità, chiaramente poi lì dietro c'erano anche un altro tipo di accordi. Comunque si registrò una sostanziale, un sostanziale aumento repentino dell'energia perché sull'onda del fatto che i paesi produttori, diciamo, siamo stati penalizzati finora nella nostra posizione di produttori, mentre voi consumatori avete dettato le regole del gioco. Adesso il gioco, diciamo, vogliamo essere parte in causa della definizione delle regole. Quindi credo che dietro questi viaggi in Africa di Lavrov, questi viaggi si iscrivano in questo tipo di schema, a mio parere. Senti, tra l'altro la visita praticamente in contemporanea di Macron in altri paesi, vedo qui in Guinea, nel Benin e nel Camero, dove ha avuto un incontro amichevole con Paul Bia, che è il dittatore riabilitato in questo caso per necessità. Così è stato descritto. Ecco, questo viaggio è per cercare di limitare i danni o di riposizionare la Francia, perché la visita di Lavrov forse non dice molto bene alla Francia, no? No, decisamente no. Il problema è che l'Africa francofona sta slittando in maniera piuttosto rapida dalla sfera di influenza tipicamente francese a quella russa e cinese. C'è un attivismo del gruppo Wagner che i russi tendono sempre a marcare le distanze, noi non abbiamo niente, no, in realtà il gruppo Wagner è collegato alla Russia in maniera, a mio parere, palese e incontestabile. Diciamo che è un sistema di soft power, chiamare il gruppo Wagner soft power è forse ardito, però è un modo comunque di tutelare i propri interessi in maniera non convenzionale, mettiamola in questi termini, è che ai russi sta fruttando dei risultati notevoli e Macron chiaramente vede, non tanto pian piano, piuttosto rapidamente allentare la propria presa, la presa francese su quelle che sono il suo cortile di casa e da cui la Francia non può assolutamente prescindere per tenersi in piedi dal punto di vista economico. Si parla tanto dell'Italia, se alla Francia venisse precurso l'accesso ai incredibili privilegi che gli è garantita questa relazione postcoloniale che la lega alla Francia-Afrique incorrerebbe in problemi economici, in disastri economici e epocali e quindi lo Stato, il famoso Stato sociale francese si dissolverebbe nel giro di una notte. Certo, Stefano a te la parola. Sì, vediamo viaggiare l'Avrov con successo tra l'altro, con un'accoglienza notevole, calorosa da parte di questi paesi africani, perché si muove lì. Va a preparare non solo gli accordi tra i due stati, cioè tra la Russia e gli stati che visita, ma prepara anche un'alleanza economica con qualcosa di ben più grande che non è solo la Russia. Noi abbiamo visto prima di questo viaggio vedere l'Avrov andare in Algeria, ad esempio. L'Algeria proprio oggi ha ufficializzato la sua richiesta di ingresso nel BRICS. Ecco che i viaggi di l'Avrov in Africa non si reca là solamente a nome della Russia, si reca come ambasciatore di fatto del BRICS, di un'alleanza, di un'economia alternativa a quella occidentale e molto più vantaggiosa dal punto di vista sia dei finanziamenti, sia delle opportunità di investimento di questi paesi, sia un'opportunità di commercio più equo con l'economia dei paesi che ne entrano a far parte. Dico questo perché pagano ad esempio le materie prime nei contratti che sottoscrivono a prezzi molto più elevati di quelli che le nostre multinazionali occidentali sono disposte a fare. Questo quindi implica che il potere di contrattazione e di incentivo da parte della Russia è molto superiore a quello che è il peso specifico della sola Russia, ma porta dietro di sé anche il peso della Cina e di altri paesi che sono nel BRICS come l'India, quindi un mercato di miliardi di persone che evidentemente ha un potere di attrazione estremamente più elevato di quello del vecchio continente legato alle potenze coloniali che nella mente loro sono rimaste, le potenze coloniali che erano nel 1800 e quindi così vengono percepite da questi paesi africani che alla prima occasione quando trovano modo di liberarsene sono ben contenti di farlo. Certo, anche perché appunto per questo storico di lunghissima data. Io direi che, a meno che Giacomo non hai qualcosa da aggiungere sulla visita di Lavro, ma direi che è stata trattata in maniera già così completa che non ci sono… Volevo dire una cosa sulla visita di Macron. Ho letto le ragioni che hanno giustificato ufficialmente il tema ufficiale della visita, riguardavano la crisi del grano provocata dalla guerra in Ucraina e appunto il progetto Farm che è lanciato dall'Unione Europea, da Stati Uniti, eccetera, al mondo occidentale, per aiutare questi paesi dal punto di vista agricolo. Il problema è che questi progetti sottintendono sempre l'impegno diretto delle multinazionali impegnate nell'agricoltura, quindi prodotti ONG e altro che rendono schiave poi queste popolazioni dall'acquisto delle sementi delle ditte, per citarne una, la Monsanto che è di proprietà Bayern adesso tedesca. Però il problema è che in realtà la crisi del frumento non è stata causata dalla guerra, anzi il prezzo del grano si è stabilizzato con l'inizio della guerra. L'aumento, che tra l'altro ho mandato anche un grafico che parla appunto degli aumenti dal 2021 al 2022, si vede come avviene a partire da giugno del 2021, quindi ben prima dell'inizio del conflitto e poi nel 2022 è rimasto stabile. Questo anche e soprattutto come fonte il grano trattato in Italia. Il problema della crisi è dovuto al fatto che si viene pagato di più ai nostri produttori, ma a questi prezzi che sono relativi al mercato internazionale del grano, perché non è che il mercato viene stabilito solamente sul prezzo locale del paese dove viene prodotto, a questi prezzi quei paesi non possono comprarlo. Il grosso del problema che hanno è questo, che ad esempio l'Egitto che è uno dei maggiori importatori di grano perché è una popolazione che supera i 100 milioni di abitanti ormai, ha avuto un'esplosione demografica negli ultimi vent'anni enorme, ecco che ha rinunciato addirittura a comprarlo dall'Ucraina, a parte per il ritardo sì, ma perché la Russia gli fa un prezzo più basso rispetto a quello che faceva. E la stessa cosa gli altri paesi dell'Africa, tra cui anche Etiopia e altri paesi che hanno una popolazione enorme, che hanno bisogno quindi di frumento a quei prezzi, non sono in grado di comprarlo. Non è che manchi in assoluto, è che c'è stato un accaparramento da parte della Cina in previsione di un'eventuale guerra e da parte delle potenze occidentali che hanno causato l'innalzamento di fatto dei prezzi, dovuto anche alle speculazioni sulle borse di Chicago, se non sbaglio è la borse delle materie prime, che hanno portato questo innalzamento innaturale dei prezzi che mette in difficoltà molti paesi che non hanno questi mezzi economici. Certo. Giacomo, se hai una sintesi, un commento da fare, visto l'aspetto molto importante che hai introdotto in ultima qui Stefano. L'unica cosa è che si assiste ormai da più di un anno allo spostamento repentino della speculazione dalle azioni sostanzialmente alle materie prime. Questo spostamento è massiccio riguardo a tutte le principali materie prime e ha la controindicazione, per noi la controindicazione che tocca immediatamente la vita di miliardi di persone, come tutti si potranno accorgere nel momento in cui vanno a fare la spesa o fanno rifornimento alla propria auto. Quindi chiaramente quando si vanno a toccare le vite delle persone in maniera strutturale e concomitante in tutto il mondo, perché qui si parla di un'inflazione che c'è in Africa, come in America Latina, come negli Stati Uniti, come in Italia, il problema diventa strutturale e le ripercussioni non sono prevedibili. Quindi qui si rischia, per tornare a quello che diceva Xi Jinping, chi gioca con il fuoco rischia di scottarsi. Assolutamente sì. Ci stiamo avviando alla conclusione. Se pensi che il lavoro del vaso di Pantora è importante e utile per la tua informazione e meritiamo il tuo sostegno, ti ricordo che il nostro canale è demonetizzato da YouTube. Ora abbiamo per te due possibilità per sostenerci. Il bonifico bancario libero, oppure questa la novità, la possibilità di unirti a Patreon, la community che abbiamo creato da poco che ti permette di avere uno scambio più vicino con noi e di fruire di notizie e materiale extra. Il tuo sostegno rimane fondamentale per l'esistenza e l'evoluzione del vaso di Pantora. Trovi qui sotto in descrizione i link per fare la tua scelta su come sostenerci. Io ringrazio, siamo proprio in chiusura, io ringrazio come sempre i miei due illustri ospiti per le disamine che i nostri ascoltatori dimostrano di apprezzare ogni settimana. Giacomo Gabellini, grazie, grazie a presto. Ritorneremo comunque sulle tematiche anche in settimana perché quello che abbiamo trattato è assolutamente in evoluzione. Per ora, grazie. Grazie a te, buonasera a tutti. Grazie, grazie a Stefano Orsi. Ricordo il canale YouTube Stefano Orsi, sempre più apprezzato. Grazie. Grazie a voi, grazie a entrambi e grazie a voi ascoltatori.